salve a tutti ragazzi e bentornati al secondo episodio del blog sulla stagione della sam benedettese calcio oggi seconda partita in casa sam fano siamo pronti sono le 13 e 13 da stavolta partiamo prima ci dirigiamo allo stadio e speriamo anche oggi di festeggiare una bella vittoria ci vediamo allo stadio allora raga siamo arrivati stadio pronti riscaldamento come la vede lei bene perfetto no 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 Grazie a tutti. 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 Calcio di calcio di calcio di calcio di calcio. nuovo video, nuovo video, nuovo video, nuovo video, nuovo giorno, nuovo critica. Un saluto raga. Ciao.